Romelu, sentenza Lukaku, bellissima performance, non tanto dal punto di vista della partita, la brillantezza, ma dal punto di vista, diciamo, della personalità. Parlo proprio di Lukaku adesso, poi arriviamo ovviamente all'Inter, ma quello che fa la differenza, a parte il fatto che possa essere un ottimo giocatore, le qualità, le caratteristiche che può avere, è proprio l'umanità. E quello che fa la differenza, secondo me, di Lukaku, principalmente, il fatto che senta la responsabilità del gruppo, il fatto che sia ovviamente integrato anche nel gruppo, ma che dimostra di prendersi la squadra anche sulle spalle in certi momenti che sono difficili. E adesso vediamo chi fa la differenza in questo, no? Cioè, l'Inter era in difficoltà, secondo me, nel secondo tempo, non c'era grande efficienza, grande efficacia del gioco. Lui ha avuto quel pallone lì, ha mirato sotto le gambe e ha fatto bingo. E poi, ovviamente, dopo il gol, la cosa meravigliosa è che è andato da Conte e ha detto Antonio, adesso giochiamo così, decido io, facciamo questa cosa qua. E Conte, ovviamente, quando si vede un metro e novanta per 110 kg di armadio venire lì contro e dire tu devi fare così, Conte ovviamente dice certo, facciamo così. Ed è stato così, perché poi gli ultimi 25 minuti abbiamo giocato come aveva chiesto Lukaku di giocare, ma era giusto, come cosa aveva chiesto Lukaku. Palla a me, la pulisco e risaliamo con il resto della squadra. Chiaramente era la cosa giusta da fare una volta andati in vantaggio, perché l'Udinese avrebbe cercato di scoprirsi un po' di più, di avanzare, di recuperare magari la partita ed è chiaro che allora lì sì che potevi far male in ripartenza. Quello che magari non va bene sempre di Conte è che si cerchi sempre di avere il passaggio diretto sin dall'inizio della partita, buttando via tanti palloni, tanti errori tecnici in questa partita, che poi sono quegli errori che ti fanno correre di più, che ti fanno perdere un po' la pazienza, che danno il possesso all'altra squadra. Insomma, queste cose bisogna un po' aggiustarle. Comunque mi sono segnato 12 punti di analisi su questa partita e partiamo dal numero 1 in ordine cronologico. Siamo partiti nel primo tempo con un 3-4-1-2. Bisogna lavorarci meglio su questo modulo di gioco, bisogna affinarlo un pochino. Non siamo stati molto efficaci e probabilmente Eriksen era anche un po' spaesato. Non l'ho visto al 100%, però attenzione, dico subito una premessa. Non giudichiamo immediatamente il giocatore. È appena arrivato, avrà anche così intrapreso allenamenti diversi da quelli a cui è abituato. Quindi stiamo tranquilli, stiamo calmi, cerchiamo di valutarlo con il tempo nelle prossime partite. Anche perché il suo ruolo è un ruolo molto delicato, quindi è molto più complesso rispetto, per esempio, a un esterno, che è un ruolo prettamente fisico. Ci sono due o tre consegne da tenere a bada e poi si tratta solo di continuità e di ritmo. Quindi è un po' più facile per Young e per Moses. Per un trequartista o per una mezzala offensiva, le consegne, le letture tattiche sono molte di più e quindi ci vuole un attimo più di pazienza. Punto 2. Con Eriksen comunque bisogna giocare in maniera leggermente più ragionata. Quindi il fatto che l'Inter cerchi esasperantemente o esasperatamente, non so come si dica, comunque in maniera esasperata il lancio lungo, il passaggio diretto, la verticalizzazione quasi automatica, repentina, non avvantaggia Eriksen, che è un giocatore invece creativo, che ha bisogno di gestire il pallone, di giocare con la testa alta. E Conte non chiede molto queste cose. Conte non vuole che i giocatori giochino a testa alta molto spesso. Chiede che una volta recuperata la palla si lanci direttamente una situazione precisa. E quindi capite che si azzera la creatività. Quindi Eriksen deve un attimo prendere le misure con questo tipo di gioco. Terzo punto però su Eriksen sì, una piccola critica forse la possiamo fare, cioè ci vorrebbe un po' più di cattiveria. Questo sì, forse gli è mancato un pochino l'intensità, questo sì. Quarto punto, Esposito. Esposito forse non è ancora pronto per giocare da titolare. Comunque l'impegno ovviamente c'è. È un giocatore di grande prospettiva, è un giocatore di qualità, è molto giovane. Ma forse farlo partire da titolare è ancora presto, soprattutto magari fuori casa, in certe partite un po' ostiche, anche a livello tattico difficili da interpretare. Infatti avevo così puntato su Sanchez prima della partita, come pre-partita. Ero sicuro che avrebbe fatto bene, è un giocatore che ti dà delle garanzie in più. Infatti si è visto poi quando è entrato assolutamente. Quinto punto, Fofanà ragazzi. Fofanà è una bestia, mi sono scritto. Infatti anche nel pre-partita sempre dicevo che attenzione perché l'Udinese ha dei giocatori pazzeschi in fase di ripartenza. Quindi quello che consigliavo era gestiamo un po' di più il pallone, perché se lo gestisci fai correre di più l'altra squadra e magari eviti di buttare via subito il possesso, perché se lo puoi gestire puoi avere quel tempo un attimo di alzare la testa, di fare un passaggio se ne vale la pena, se è troppo rischioso magari aspetti un attimo e la fai girare. E invece, ripeto, nel primo tempo siamo partiti un po' alla solita, nell'ultimo mese, troppo aggressivi dal punto di vista della gestione della palla. E così perdendo palla ogni due secondi c'erano queste ripartenze, queste folate, spacca campo di giocatori come Fofanà o come Okaka che sono, ripeto, delle bestie, come anche Lukaku, in fase di ripartenza. Quindi bisogna leggermente modificare, secondo me, un pochino il nostro approccio. È vero che gli avversali ti conoscono un po' di più e quindi devi diventare più efficace, ma l'efficacia non è per forza uguale intensità. Cioè non è che siccome gli altri ti conoscono un po' di più, allora devi aumentare l'intensità così da farli stare più in difficoltà. Forse devi cambiare un pochino delle soluzioni di gioco. Comunque, punto 6, Moses. L'ho visto meglio dell'ultima partita, nel senso che ha bisogno di minutaggio, deve un attimo prendersi, però secondo me è stato un po' un azzardo tentarlo oggi, nel senso che, tutto sommato, ci è andata anche bene, l'impegno ce l'ha messo, però è andato tante volte in difficoltà in fase difensiva. Non ha ancora forse il ritmo partita e forse, ripeto, è stato un po' un azzardo. Ci è andata bene, perché comunque siamo stati molto compatti, molto attenti a livello difensivo, però l'Udinese ha avuto tante occasioni, soprattutto da quella fascia lì, dalla fascia destra, ci è venuta giù tante volte e se stessimo commentando, non so, commentare un pareggio, per esempio, di questa partita, sarebbe stato possibile, non so come, insomma, avete capito cosa voglio intendermi, sono un po' incartato con le parole per il discorso, è che l'Udinese ha avuto tante occasioni, troppe, e non era così, ecco, improbabile subire dei gol, mettiamola così. Punto 7, il punto 7 è che nel primo tempo appunto abbiamo giocato in 10, questa è la chiave della partita però, perché poi ovviamente, adesso parleremo anche dei cambi, i cambi ci sono stati, hanno dato la svolta un po' ad alcune situazioni, però secondo me il problema principale era proprio che mancava Eriksen, mancava il 10, mancava il trequartista lì in mezzo, poi abbiamo cambiato anche il modulo di gioco nel secondo tempo e anche quella è una chiave, casomai, però non è un discorso secondo me di regia, anche se ovviamente Brozovic è il giocatore designato per essere titolare lì, ovviamente nelle ultime partite quando si diceva di Barella che può anche giocare dietro, si parlava in assenza di Brozovic, questo che penso che fosse abbastanza chiaro e palese, però lo specifico per quelli che avessero dei dubbi, Barella può essere un'alternativa in caso di emergenza, in caso in cui Brozovic non sia disponibile, Brozovic è chiaro che è il giocatore ormai che ha preso le redini della mediana, però secondo me Barella non ha fatto male in tutta questa partita, sia quando ha giocato basso gestendo il pallone, sia quando ha giocato poi nella sua solita posizione da mezzala, ha fatto sempre bene, quello che mancava, ripeto, era Esposito e Eriksen giocavamo in 10, diciamo che Eriksen valeva metà e Esposito un'altra metà, ecco quindi quello era il problema secondo me dell'efficacia sulla tre quarti, non tanto Barella che fosse dietro eccetera, poi ecco una cosa su Barella però questo si è vero, nel caso in cui dovesse giocare ancora dietro è secondo me una possibilità che vedremo, perché l'ha detto anche Conte pochi giorni fa, deve imparare un po' a controllarsi per quanto riguarda i falli, perché devi un po', cioè Barella te lo dico insomma, hai 22 anni, hai tutta la possibilità di migliorarti, anche Brozovic era così, ci ricordiamo di 3-4 anni fa Brozovic quando era arrivato faceva falli un po' a casaccio, è un discorso di crescita, di maturità, però sì è un lavoro che va fatto perché altrimenti rischia il giallo perenne in tutte le partite e poi le difide ovviamente vanno ad accumularsi. Punto 8, ovviamente questo è il punto 8 con cui è iniziato, Lukaku che personalità, quindi però il punto 8 è diventato il primo punto del video in realtà, però lo ripeto, Lukaku grande personalità ed è quello che lo fa essere veramente importante per noi. Il punto 9 l'ho già detto dei take di Barella, come vedete io scrivo le cose ma ce le ho anche in testa, il decimo punto ragazzi, il numero 10 è Vessino che è tornato, da quando è tornato lui dalla scorsa partita l'Inter ha ripreso a vincere, non voglio dire ovviamente che sia Vessino a fare la differenza, magari anche solo prendiamolo come un talismano, però non è un caso fino in fondo, questo non voglio dire ripeto che sia Vessino a fare gol o a fare la differenza, non è così, però è un giocatore che ti dà delle caratteristiche, ripeto, che completano le caratteristiche degli altri giocatori che hai in campo e quindi che valorizzano il centrocampo, è un giocatore che fa molti inserimenti, l'abbiamo visto anche in questa partita, che fa un gran lavoro di sostanza, che era quello che ci mancava, non vinci semplicemente con l'apparenza, con le cose che vedi palesemente, ma anche con delle situazioni che non vedi in maniera palese, le vedi magari la seconda o la terza volta che rianalizzi delle situazioni di gioco, ma Vessino ti dà quella sostanza lì, è un giocatore che c'è sempre dove c'è da esserci, è un giocatore che ritorna, è un giocatore che fa il suo ruolo in maniera corretta, che si allarga quando deve allargarsi, che va dentro l'area con i tempi giusti, cioè non spreca mai le energie a vuoto, questa è una cosa importantissima in un 3-5-2 e ovviamente nel campionato italiano non ne parliamo, è un campionato molto tattico. Punto 11, Sanchez, non si può mettere in discussione la qualità tecnica di Sanchez, come ho sentito fare dopo Inter Fiorentina per esempio, molti già lo davano per bollito, un giocatore che non ha reso perché è in declino, no, non ha reso per un discorso come per Eriksen, tattico di lettura della partita, di sistema di gioco e di lettura anche proprio del mister forse di una chiave tattica della partita, ma non puoi mettere in discussione Sanchez, Sanchez è un giocatore che ha qualità, ha ancora 30 anni, può ancora dare il suo contributo, chiaramente il suo problema è stato fisico fino adesso, però non si può mettere sullo stesso piano esposito, anche se è una grande promessa, con Sanchez, questa è una cosa che non posso accettare, infatti se qualcuno mi chiedeva su chi puntare su questa partita, la vedete anche la lavagna, chi avevo messo davanti vicino a Lukaku. E punto 12 ragazzi, gli errori tecnici costanti dell'Inter di Conte sono dovuti proprio a queste giocate chieste in maniera immediata. Secondo me se giochi con giocatori come Sanchez, come Brozovic, come anche Eriksen, devi dare un po' più spazio alla creatività, alla personalità che hanno i giocatori, perché ci sono giocatori che sono manovali e va bene, ci sono altri giocatori che sono artisti e bisogna un po' assecondarli, perché altrimenti se un artista gli tarpi le ali chiedendogli un lavoro da manovale lo limiti, lo limiti e ne risente poi l'intero sistema di gioco secondo me. Questa è un po' l'analisi totale della partita, dite un po' quello che pensate voi, lasciate i commenti, mi raccomando condividete la qualità perché tenersela per sé è da avari. Ciao a tutti ragazzi, forza Inter! Grazie a tutti!